La fune rappresenta uno degli attrezzi con i quali si inizia a fare ginnastica ritmica, si inizia per gioco all'età di 5, 6, 8 anni e di conseguenza è uno degli attrezzi cui abbiamo sempre dedicato spazio, abbiamo profuso energie per realizzare anche delle soluzioni giocose, interessanti, per in qualche modo avvicinarci anche alle altre attività sportive di salto, non dimentichiamo che la corda viene usata anche da atleti dell'atletica leggera, viene usata da chi pratica la box, magari per obiettivi diversi che possono essere quelli del condizionamento organico, noi la usiamo per questioni di preparazione fisica ma anche di preparazione coreografica, estetica, di conseguenza la usiamo un po' a 360 gradi e pensare che l'anno prossimo non ci sarà più diventa forse per noi motivo di disappunto in alcuni momenti e di dispiacere un po' generale per tutti.